Musica Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. Per questo nostro appuntamento abbiamo scelto tre temi, ecco i titoli. Si parla di una mozione respinta per far viaggiare gratis le guardie giurate e le forze armate che era stata presentata da Fratelli d'Italia per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri. Premio Innovazione Toscana, è stato aperto il bando per partecipare, ricerca e sviluppo, innovazione digitale, brevetti e start-up innovative. E poi si parla anche del Foiano Book Festival, nato nel 2019, è già un punto di riferimento per gli avanti dei libri, la direttrice artistica è Anna Cruvini, sorella minore del cantante Giovanotti. Il primo argomento si porta all'interno dell'aula del consiglio regionale. È stata respinta una mozione firmata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, Francesco Torselli e Alessandro Capecchi, in merito alla gratuità dei pubblici servizi di trasporto per i corpi di vigilanza privata, purché indossino la divisa d'ordinanza. Come peraltro ha spiegato Veneri, illustrando l'atto, emendando alcuni punti al centro dell'attenzione, c'era proprio la preoccupante crescita di episodi di criminalità. Fausto Merlotti del Partito Democratico invece ha spiegato che l'intervento del Governo per istituire un fondo che possa ristorare i gestori per i minori introiti è necessario e che il PD presenterà più presto una nuova mozione sull'argomento che è considerato di grande interesse e attualità. Ascoltiamo. Si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota e che è il tema della sicurezza. Un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto, principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate. E noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate ha la condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana, che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico, doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con appunto chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico, il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse, quindi a spendere nuovi soldi, per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa è una cosa che ci sta molto molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del PD e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima, non fuori luogo, di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni. Ripeto, la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti, la convenzione già in essere anche ai corpi di vigilanza privata anche agli uomini e le donne della guardia costiera, anche agli uomini e le donne della polizia municipale a tutti quei soggetti che con la loro presenza o in divisa o in borghese purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. Ripeto, una mozione e gli emendamenti di buonsenso che oggettivamente pensavo e pensavamo che il gruppo del Partito Democratico come maggioranza i proponenti potessero accettare. Evidentemente non è così, evidentemente non hanno a cuore la sicurezza dei nostri concittadini evidentemente siamo già nel gioco della parte politica per cui non si può chiedere al governo nascente a guida centro-destra di poter intervenire finanziariamente laddove ce ne fosse bisogno anche su temi che sulla carta sono cari al centro-destra ma non è così, quali quelli legati alla sicurezza. La sicurezza è un tema che riguarda tutti e che il centro-sinistra e il Partito Democratico ha molto a cuore. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti, naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro. Lo fanno già molte regioni, lo fa la regione Lombardia, lo fa la regione Abruzzo, lo fa la regione Campania, lo fa la regione Sicilia. Oggi abbiamo scoperto che il Partito Democratico è contro le forze dell'ordine. Era di buonsenso per una serie di motivi, il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto, sui treni, sugli autobus, sul trasporto di linea, sul TPL pubblico, per i cittadini che montano sull'autobus e che molte volte si trovano stagio di borseggiatori, magari di piccola delinquenza, di piccola criminalità. Avere la presenza delle forze dell'ordine indivisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto che non lo possiamo fare perché costa, a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centro-destra e per Forza Italia non è mai un costo, ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è, ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pullman, che salgono sul trasporto pubblico che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella scifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo. Credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa, che è una misura che a nostro avviso è positiva. Personalmente credo che, ad esempio, la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per, come dire, sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo. Si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi, ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale. Garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Aperto il bando per partecipare al premio Innovazione Toscana promosso dal Consiglio regionale Confindustria Toscana. Il bando è rivolto a stand-up, imprese private, in forma singola, pure aggregata, spin-off, accademici e universitari, con sedio e residenza in Toscana. E prevede quattro sezioni di concorso. La start-up innovativa, la ricerca a sviluppo e innovazione digitale, i prevetti e transizione ecologica e energetica. Sono nove. I premi in palio, è prevista anche una speciale selezione per i migliori imprenditori under 40, quindi per i giovani, e vanno a questi premi in palio dai 5 ai 15 mila euro. Tutte le informazioni per quanto riguarda il regolamento e modulistica sono disponibili sul sito www.premioinnovazionetoscana.it Il termine per presentare le domande, però lo ricordiamo, scade il 7 novembre alle ore 17. Si partecipa a questo premio attraverso un bando che è attualmente aperto fino al prossimo 7 novembre. Si va sul sito del premio www.premioinnovazionetoscana.it, si scarica tutta la documentazione disponibile. Si va sul sito di sviluppo Toscana, che è il soggetto che gestisce tutti i banni di questa regione, e si presenta domanda. Possono partecipare sia le imprese di tutti i settori, di tutte le dimensioni, le start-up innovative, gli spin-off accademici, ma anche i giovani, i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che possono concorrere, soprattutto per valorizzare i tanti brevetti che fanno eccellente questo territorio. Si aspetta dalla chiusura del bando, che appunto avviene il 7 novembre, circa un mesetto, un mesetto e mezzo, per poi avere gli esiti di questo premio che concede nove premi in denaro, che comunque vanno dai 5 ai 15 mila euro e sono anche un'opportunità finanziaria, ma soprattutto una vetrina per le imprese. E si ha la premiazione da parte della Confiduzia Toscana e del Consiglio regionale all'interno di una cerimonia che vuole essere anche un evento che richiama l'attenzione della Toscana, ma del nostro Paese, sull'importanza dell'innovazione, soprattutto sulle due grandi transizioni industriali a cui quest'anno vuole dedicarsi il premio, che sono la transizione digitale, la transizione ecologica ed energetica. Attraversiamo una fase economica difficilissima post-pandemia, purtroppo all'interno di una guerra, di un mondo che sta cambiando, la globalizzazione non è più una realtà e quindi per l'Italia e per l'Europa, ma in particolare per il nostro territorio, è fondamentale svilupparsi basandosi sull'innovazione. Naturalmente l'università, con la ricerca e col trasferimento della ricerca verso il mondo produttivo, è al centro di questo fenomeno. Io credo che questa iniziativa sia una cosa interessantissima che chiaramente investe sia ovviamente il pubblico come regione e il privato come aziende e come movimento ovviamente dei processi innovativi per quanto riguarda le aziende, che oggi non mai hanno bisogno. Quindi io ritengo che il premio come questo siano veramente al centro per far sì che l'imprenditore per primo, ma anche la start-up, capiscono che oggi le aziende, le dimensioni delle aziende vengono e provengono sempre da un'idea. E questa idea può essere tirata fuori pensando di creare un premio, di creare qualcosa che su quella che è l'idea più, secondo noi, vincente, può essere riconosciuto ovviamente un merito. Tra l'altro, di più, che io ho partecipato nel 2018 e ho vinto questo premio, che poi con quell'idea l'ho sviluppata nell'azienda, e ora c'è un'azienda di oltre 500 dipendenti con fatturate molto importanti. L'edizione 2022 del Foiano Book Festival, che esiterà fino al 19 novembre, propone un ricco cartellone di eventi, sono stati presentati presso il Media Center David Sassoli nel Palazzo del Pegaso. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura di Foiano della Chiana, il festival ospita presentazioni di libri, incontri con autori, ma anche dibattiti, interviste, concerti, spettacoli, mostri con protagonista principale, il libro. Qui c'è l'idea di Toscana, investire sui nostri piccoli borghi, investire sulla cultura. Oggi ogni iniziativa che investe in cultura, investe nella lettura, in questo caso, investe sulla libertà. In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, investire sulla libertà è importante. Questo sembra essere un piccolo festival. Iniziato tre anni fa, invece, la qualità, come potrete vedere nell'organizzazione, qualcosa di importante, porta Foiano al centro della Toscana nelle prossime settimane. Consiglio di ringraziare Anna Cherubini per il lavoro importante che porta avanti per questo festival. I nomi alcuni tra i primari nel nostro paese, penso a Pupia Vati, penso a Walter Veltroni, danno il senso anche del valore di questa iniziativa. Per tre settimane, Foiano sarà il cuore della cultura della Toscana. Provare a fare cultura, cultura pensando ai giovani e facendogli capire quello che forse sanno più di noi, che leggere significa viaggiare, significa sognare, significa andare da un'altra parte rimanendo a casa. Questo credo che è un'ambizione di moltissimi. Loro sono stati molto bravi, il livello di quest'anno è davvero di eccezione. Speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone, ma soprattutto di tanti giovani, di tanti uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al sogno collettivo. Noi abbiamo creato questo Book Festival tre anni fa, nel 2019, allo scopo di sensibilizzare semplicemente le persone alla lettura, cioè far venire voglia alle persone, agli abitanti non solo di Foiano, ma insomma della nostra area, possibilmente di tutta la Toscana, di leggere e di incontrare gli scrittori, perché poi molto spesso incontrare chi scrive i libri invoglia a leggerli, perché ci sono dietro storie, interpretazioni. E quest'anno abbiamo un bellissimo programma, devo dire. Abbiamo un buon numero di scrittrici donne, ma importanti come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al Premio Strega, Federica Bosco, che è toscana, e Gaia Cenciarelli, che è romana. Poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupiavati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche, e poi tra i romani, l'importante, Miguel Gotor, che è l'assessore della cultura del Comune di Roma, parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di piombo. L'obiettivo infatti è questo, di portare gente fisicamente a parlare con degli scrittori, perché poi fare la presentazione di un libro è una cosa molto semplice, basta una cassa e un microfono e un po' di pubblico. La cosa difficile è quella di trovare autori, a volte sono più famosi, a volte meno famosi, ma che comunque riescano a avere un contatto con il pubblico. e siamo soddisfatti anche perché nell'anno in cui non abbiamo infatti potuto fare questo festival, all'anno del Covid, molte altre manifestazioni sono state fatte online, comunque non in presenza. Noi abbiamo preferito stopparla un anno per poi ripartire l'anno scorso, proprio per questo motivo, perché il bello e lo scopo di questo festival è portare persone in presenza, in un contesto culturale, come è poi il paese di Foiano della Chiana. Quest'anno abbiamo avuto molte più proposte da vagliare e devo dire anche che abbiamo avuto meno problemi anche nell'interlocuzione diretta con gli artisti. Penso che oggettivamente il Foiano Book Festival si stia segnalando come una delle manifestazioni più interessanti del settore e quindi ancora una volta andiamo di fronte ai nostri sponsor e ai nostri ascoltatori che vengono da tutta l'Italia e siamo sicuri che la prossima edizione sarà ancora migliore di questa. E questo era l'ultimo argomento per questo nostro aggiornamento settimanale. Vi ricordo per tutte le informazioni www.inconsiglio.it Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento tra sette giorni quando saremo ancora insieme dentro il Consiglio. Grazie per la visione!